buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 3 gennaio 2022 e riprendiamo la nostra segna stampa dopo alcuni giorni di festa vi faccio ancora tanti auguri di buon anno e vediamo subito cosa dicono oggi i giornali oggi dicevo è lunedì 3 gennaio 2022 il sole sorge alle 7 e 40 e tramonta alle 16 e 42 oggi si festeggia il santo nome di gesù gesù vuol dire salvatore appunto nel significato teologico e vediamo ora le previsioni del tempo sulle marche una giornata stabile ancora le alte pressioni permangono sul nostro territorio tra sole e nubi stratificate una nuvolosità in progressivo in spessimento entrosera il clima diurno sarà piuttosto mite le temperature saliranno fino a 13 ma anche forse più 14 15 gradi dunque ancora alcuni giorni di bel tempo a parte la nebbia e poi a metà settimana vedremo che arriverà una perturbazione detto questo diamo subito un'occhiata alle notizie dei giornali a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fan abbiamo un'intervista al vice sindaco e assessore all'urbanistica cristian fanesi nessuna variante ancona celeri c'è da coniugare lavoro ed estetica in questa intervista fanesi parla di tre realizzazioni che dovrebbero vedere la luce o almeno progredire durante il 2022 innanzitutto l'adeguamento del prg del porto che prevede la realizzazione di un grande cantiere della cantieristica per un'altezza di 24 metri il che non ha evitato di provocare delle polemiche e poi vediamo ancora i fondi pinqua per i quali sono stati dati gli incarichi a dei professionisti nonostante che ancora i fondi per la realizzazione non siano stati consegnati dallo Stato al Comune e poi ancora il completamento degli interquartieri verso Gimarra una arteria che sappiamo benissimo desta la contrarietà dei residenti appunto del quartiere ma che l'amministrazione comunale intende realizzare per una visione complessiva della viabilità di tutta la città Fano Grosseto mano di verde su progetto arrugginito ebbene questa è una dichiarazione che fanno gli ambientalisti di Lupus in fabula che tra le loro contrarietà ora pongono anche quella sulla definizione, sulla ultimazione della Fano Grosseto quando si fanno delle strade a quattro corsie, quando si consuma il territorio dicono appunto gli ambientalisti di Lupus in fabula si fa dei danni appunto al nostro pianeta e quindi tesi contraria anche per la Fano Grosseto Carignano strade da incubo e l'ACLI APS chiede una sede è Fratelli d'Italia in pressing nei confronti dell'amministrazione comunale perché intervenga con opere pubbliche ma anche con grande attenzione nella frazione di Carignano una frazione che appare un po' dimenticata affermano Fratelli d'Italia in realtà qualcosa è stato fatto, è stata appunto ristrutturata, consolidata diciamo meglio la chiesa che era stata lesionata da una frana poi sono stati restaurati dei quadri però Carignano ha delle pessime strade in modo particolare quella della Gaza che appunto i Fratelli d'Italia pongono all'attenzione dell'amministrazione comunale perché sia asfaltata e poi abbiamo anche il ponte Varano dove il parapetto risulta gravemente lesionato ancora l'associazione che costituisce un po' la vitalità della frazione tra poco rimarrà senza sede e Fratelli d'Italia dice c'è una scuola elementare che è in disuso perché appunto non farla occupare dalla associazione per quanto riguarda la risposta dell'amministrazione comunale vediamo che la strada della Gaza invece è inserita nel piano delle asfaltature e per quanto riguarda l'attribuzione della scuola all'ACLI per il sindaco non ci sono problemi i progetti di adeguamento rimasti nel cassetto a terre roveresche ebbene qui in questo caso noi siamo terre roveresche l'associazione è anzi una lista civica di minoranza che interviene nei confronti dell'amministrazione comunale perché rafforzi l'illuminazione pubblica qui vediamo che da tempo questo invito è stato fatto ma è stato disatteso il sindaco ha voluto, afferma la lista civica ha voluto ancora una volta ignorare le nostre richieste e si è concentrato in progetti quali muri fioriti acquisizione coattiva di case di campagna asfalti personalizzati o ancora meglio pali della luce personalizzati insomma non una visione globale del territorio secondo il gruppo di opposizione ma una visione un po' parcellizzata ovviamente il sindaco non è di questo parere giriamo ancora le pagine vediamo la pagina di Urbino che però dedica la sua attenzione a Sant'Angelo in Vado dove si dà l'addio ad una persona stimata in tutta la città si tratta di un gigante buono Sanzio Spezzi vigile della polizia municipale l'uomo è deceduto a 60 anni è stato trovato morto in casa il feretro è scortato dai colleghi in alta uniforme vediamo qui questa fotografia dove vediamo un vigile urbano in alta uniforme che precede il feretro appunto che percorre le strade del paese un commiato un commiato sentito commosso ma con grande onore perché questo era un uomo che aveva dato lustro alla sua città e invece ad Urbino sono in arrivo 19 milioni per la città ecco le nostre priorità da parte di Urbino e il Montefeltro una rigenerazione urbana da parte dei fondi europei per la qualità del decoro e il miglioramento del tessuto ambientale a intervenire sono Giorgio Londei e il consigliere Federico Cangini li vediamo qui nelle fotografie dicono avevamo votato a favore e sollecitato oltre a Mercatale le vigne e la data il recupero a scopo abitativo di Palazzo De Rossi e il collegamento con una nuova viabilità tra l'area sportiva e Pian Severo e il centro storico recuperando un progetto di precedenti amministrazioni e dovrebbero essere questi appunto i punti dove dovrebbe essere concentrati questi 18 milioni in arrivo alla città e veniamo ora invece alla pagina alla pagina della Val Cesano dove troviamo un appello un appello che in realtà è un augurio perché si parla di un caso drammatico si parla di una donna operata a 47 anni per una gravissima forma di morbo di Crohn in questo caso è il racconto della figlia dal Sant'Orsolo di Bologna dove la madre è ricoverata la malattia ha detto è peggiorata io per starle vicino mi sono trasferita a Bologna questa è la fase più delicata e appunto dal giornale si esprime un rafforzamento un accoramento per quanto riguarda forza forza Samantha cerca di farcela e forza Susanna Susanna e Susanna Luzzi di 47 anni appunto la donna che è ricoverata mentre Samantha è la figlia a San Lorenzo in campo nuovi mezzi e due operai esterni in più si parla di assunzioni la giunta dell'Onti investe 70.000 euro ha investito anzi 70.000 euro nelle 2021 e per quanto riguarda le assunzioni c'è il concorso si assumono due operai due operai a tempo pieno ed indeterminato le domande possono essere presentate entro il 20 di gennaio a Senigallia ubriachi e sbandati stazione nel caos un presidio fisso delle forze dell'ordine occorre realizzarlo subito lo chiedono i tassisti che stazionano sempre nei pressi appunto dove avvengono questi episodi chiedono una postazione permanente per garantire la sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori ebbene a Capodanno è successo di tutto a Senigallia un ubriaco ha seminato il panico infortunando anche dei bambini che con i genitori stavano andando a fare gli auguri ai nonni che abitano poco distante una coppia di fidanzati si è barricata nel piccolo ufficio dei tassisti fino all'arrivo dei carabinieri in quanto appunto bersagliata da questi estrani altri passanti si sono messi a correre scappando un gruppo di ragazzi poi ha preso a calci ripetutamente il distributore di lattine e merendine sfondando la vetrata insomma veramente hanno fatto da matti il caos e quando cadono queste cose occorre una repressione determinata ovviamente nel quadro di un rapporto civile doppio colpo di capodanno al vivere verde ladri in via bramante in via verdi rubati gioielli soldi e occhiali insomma un capodanno nel quale non si è cominciato bene il 2022 infatti le forze dell'ordine sono state molto molto impegnate per reprimere e cercare di individuare appunto gli autori di questi atti delinquenziali veniamo ora alla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico dove vediamo che si parla sempre di sanità capodanno sanità in moto 12 sedi per i tamponi e altri 100 posti letto covid antigenici parificati ai malecolari la mattina della Befana per gli studenti poi si parla di Pala Rossini o Pala Indor ad Ancona oggi nuovo hub aggiunti oggi al massimo domani ci saranno le comunicazioni ufficiali delle sedi in base all'attività febbrile dell'Asur l'obiettivo è dare uno strumento alle famiglie e alle scuole per arrivare alla temutissima ripresa delle lezioni dice il giornale con una verifica approfondita sullo stato epidemiologico degli studenti dopo le vacanze insomma torneranno positivi o negativi questo è l'interrogativo che si cerca appunto di sciogliere e lo si farà appunto con le indagini uno per uno su tutti gli studenti raffreddorizzazione forse soltanto dopo la quarta dose a scuola Omicron dialogherà appunto si insiste su questa vicenda del ritorno a scuola a parlare è il virologo Stefano Menzo che è direttore del laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona è docente anche di microbiologia alla facoltà di medicina e chirurgia del Politecnico delle Marche un tecnico un studioso esperto in materia e dice che un terzo dei tamponi a Omicron presto appunto sarà prevalente questa variante che sta dilagando e che è molto incisiva insomma si prende facilmente Palazzo Ricci vediamo Palazzo Ricci a Pesaro Palazzo Ricci rientra nei finanziamenti dell'ITI però i costi dice il giornale sono gli evitati e il comune è chiamato a scegliere nell'ambito del progetto di recupero del complesso sono cambiate le priorità si partirà con la realizzazione della bibliomediateca come primo stralcio il comune per rimanere nei limiti economici imposti dal progetto ITI un milione e otto scusate un milione e ottocentosessantacinque mila euro ai quali puoi aggiungere quattrocento o tantumila che sono soldi del comune stesso ha dovuto fare una scelta nei lavori da realizzare e nella valutazione sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi come lo stato pressoché concluso della progettazione definitiva ed esecutiva al momento della comunicazione dell'aumento dell'importo dei lavori i lavori crescono per quanto riguarda l'onere è necessario appunto a realizzarli e quindi occorre fare delle scelte perché poi i soldi sono sempre quelli ed è una grande soddisfazione quella che ha ricevuto Daniele Vimini considerato da Art Tribune il migliore assessore alla cultura del 2021 la classifica della prestigiosa rivista valuta ambiti italiani ed europei insomma una bella soddisfazione per questo amministratore pesarese vaccini prenotazioni ravvicinate con la disponibilità di mille posti il servizio agli hub viene continuamente monitorato per facilitare l'utenza mentre a fondo pagina vediamo ancora la fotografia del direttore dell'area vasta 1 Roberto Magnoni il quale dice sanità a due velocità così come hanno supposto il Movimento 5 Stelle anzi l'ha supposto Claudia Vanzolini capogruppo appunto del Movimento in Consiglio Comunale una nuova in tre ebbene il direttore dell'area vasta Romeo Magnoni replica alla Vanzolini dicendo è un affronto questa dichiarazione per chi sta dando tutto se stesso per affrontare questa epidemia e cercare appunto di curare oppure di prevenire coloro che sono minacciati dal Covid fa il pieno poi scappa senza pagare siamo alle notizie di cronaca è accaduto a Pesaro si tratta di un romeno un romeno che ha fatto il pieno di benzina poi è scappato senza pagare ovviamente il benzinaio ha chiamato la polizia c'è stata una roccambolesca fuga un roccambolesco inseguimento di questo uomo che è fuggito addirittura ha rubato anche la macchina una turbolenta fuga in A14 quindi è stato arrestato per resistenza si tratta di un 32enne gli agenti sono finiti addirittura al pronto soccorso per la reazione del rumeno che non voleva saperne di essere fermato però alla fine gli agenti ci sono riusciti e ad ora è stato appunto fermato vediamo ancora sulla pagina di Pesalo vediamo questo articolo che riguarda Vallefoglia Vallefoglia abbiamo qui la fotografia di un palazzo che è una risorsa culturale di grande importanza ed è poco conosciuta si tratta di Palazzo del Monte storico gioiello del borgo di Monbaroccio il borgo di Monbaroccio possiede infatti un patrimonio storico e culturale di tutto rispetto spesso sconosciuto anche ai suoi stessi cittadini e per porre l'attenzione su questi tesori l'associazione Rodina Patria ha promosso recentemente una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sulla difesa e promozione del patrimonio culturale del territorio si parla soprattutto della figura di un personaggio importante nella storia italiana si tratta di Guido Baldo del Monte astronomo ingegnere militare umanista teologo nonché mentore di Galileo Galilei ebbene questo personaggio abitava in questo palazzo palazzo del monte che ora deve essere valorizzato deve essere restaurato e trasformato in un museo secondo appunto gli indirizzi dell'amministrazione comunale un museo per le sue ricerche ma anche un museo per Galileo Galilei i cui rapporti erano molto stretti tra i due personaggi ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino dove nella prima pagina vediamo un altro episodio di cronaca dacci la droga o ti ammazziamo sono stati arrestati due fratelli colombiani che per recuperare un credito hanno rapinato e sequestrato un ragazzo e il suo amico vediamo meglio il giornale invece la fotonotitura notizia centrale dedicata alla sanità una compressa contro il covid non c'è quindi solo il vaccino ci sono anche delle cure alternative c'è questa compressa infatti domani al debutto due nuovi antivirali i medici ma non sono la panacea insomma non fanno tutto insomma non guariscono completamente ma sono di aiuto vedremo poi all'interno e poi l'articolo si occupa il giornale si occupa anche dei tatuaggi si cambia in questo settore sono vietati alcuni colori e vedremo come reagiscono appunto coloro che praticano questo servizio a San Costanzo foro negli infissi blist dei ladri mentre i padroni dormono e poi ancora per lo sport così sarà il nuovo stadio a Pesaro ecco il progetto dei tifosi per il basket VL rotta su Brescia Banchi prepara il piano per quanto riguarda questo nuovo incontro potenziamo la squadra dei medici Usca lo dice Elisabetta Esposto che è direttore del distretto di Pesaro ma bisogna stare attenti al picco dei contagi dopo le feste perché magari si è un pochino sbragati durante le festività qualche assembramento in più qualche festa in più in compagnia senza precauzioni l'esercito dei positivi quanti sono i positivi in provincia sono 3.006 ma abbiamo il tasso di incidenza più basso della regione ha dichiarato appunto Elisabetta Esposto la quale aggiunge sei ore al giorno di servizio in più per le unità che visitano a casa e sono appunto i medici USCA l'attività contro i focolai virus nuove terapie domiciliari al debutto vi faccio vedere questo articolo eccolo sono un'arma in più ma non nella panacea da domani ok all'uso del remdesivir e della pillola della Merck Bucci medico USCA farmaci complessi il vaccino resta la soluzione migliore precisa appunto questo medico ma è importante che insomma non ci si concentri solo nei vaccini ma si cerchi anche altri farmaci in modo che l'attacco contro la pandemia provenga da diversi fronti e questo appunto dicevo è importante ancora sul resto del carino vediamo il successo di una cantante si tratta di Raffaella Pierattoni cantante 23enne che raggiunge le 30.000 visualizzazioni con Vivo senza te dietro c'è anche uno dei collaboratori di Vasco Rossi voglio uscire con un album la prossima settimana e vedere dal vivo le reazioni ha dichiarato Raffaella mi ci rivedo nelle tue parole perché mi danno un senso di indipendenza dice una sua fan di Modena insomma un successo così che ha meravigliato la stessa cantante per quanto riguarda le sue visualizzazioni dateci indietro la droga sequestrati e picchiati sono stati arrestati due fratelli colombiani accusati di aver raffinato un minorenne e il suo amico dovevano restituire loro Ascis per un valore di 4.000 euro per i due di 22 25 anni già noti alla giustizia residenti nella nostra provincia le accuse sono piuttosto gravi rapina aggravata e sequestro di persona insomma anche loro non passeranno un buon inizio di anno ed ecco qui la pagina che riguarda i tatuaggi una pratica che va diffondendosi sempre più nel 2021 ma anche continuerà nel 2022 nonostante che ci siano alcune limitazioni e il Carlino compie un viaggio nei negozi degli artisti del lago abbiamo migliaia di euro di tinte ferme in magazzino dicono però è più importante la salute dei clienti infatti per precauzione sono stati vietati alcuni colori che potrebbero danneggiare appunto la pelle oppure entrare in circolo e diventare tossici qui abbiamo dei personaggi che praticano i tatuaggi vediamo qui alcune fotografie significative Simone Gallo Lion Flower Tattoo dice alcuni saranno modificati per essere ancora più sicuri e parla di colori e poi disagia la clientela qualcuno che aveva cominciato un tattoo con il vecchio sistema ora non sa più come proseguirlo e poi c'è la rabbia dei professionisti sono circolate notizie parziali che hanno danneggiato il nostro lavoro hanno detto contagi in Valcesano un balzo in avanti del 65% in 11 giorni il covid ha invaso i comuni di Mondolfo e Pergola il baluardo della resistenza rimane fratterosa solo lo 0,65% dall'8 proseguiranno le operazioni di somministrazione ma solo per due volte alla settimana al hub vaccinale e poi ancora una notizia di cronaca a San Costanzo ladri a casa mentre i padroni dormano topi di appartamento in azione nella notte tra il 30 dicembre e il 31 a Cerasa di San Costanzo mentre i proprietari di casa stavano dormendo una banda di malviventi è riuscita a penetrare in due appartamenti l'uno vicino all'altro sono quasi concomitanti tra via Donne Sturzo e via Lazio forzando in un caso una porta e nell'altro una finestra praticando in entrambe le circostanze dei forellini ad occhi in prossimità della serratura il che significa che sono dei professionisti ignorati oggetti d'oro e altri beni preziosi malviventi sono impossessati solo del contante 200 euro in un caso e tra i 3 e i 400 euro nell'altro per quanto riguarda Fano invece si parla ancora delle polemiche suscitate dalla previsione di un grande cantiere in zona Porto qui vediamo un 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 in zona in zona in zona del porto e qui vediamo appunto uno dei contrari che contrari insomma ha suscitato delle perplessità per quanto riguarda l'estetica Cora Fattori insieme a Renato Claudio Minardi e concludiamo la nostra segna stampa con lo sport ancora non ci sono le partite il campionato deve il campionato di calcio deve ancora riprendere mentre la vis fa vedere un po' quello che i tifosi desiderano un nuovo stadio i tifosi progettano il nuovo Benelli una raccolta di firme per avere questa nuova struttura otto gradoni tribuna Prato da smezzare due curve da 800 posti copertura alle spalle e con il tetto questo è quanto desiderano i tifosi Alma la promessa di Catalano per la salvezza faremo di tutto ha detto il tecnico Granata adesso dobbiamo concentrarci solo su questo poi in futuro si vedrà e la lotta per la salvezza per i Granata procede vedremo quando riprenderà il campionato come sarà la prestazione dei giocatori e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno questa sera alle ore 20-30 su Fano TV buona giornata